Musica Musica Lui è l'avvocato e critico d'arte Andrea Di Vipre! Musica Fa il suo ingresso trionfale in viva l'avvocato e critico d'arte Andrea Di Vipre! Musica Il cubico esplode, è completamente in delino per questa presenza, beh è un uomo simpatico, a me sinceramente sta molto simpatico, mi piace il suo modo di fare, schietto, mi piace, mi piace quello che dice, mi piace come lo dice Andrea Di Vipre, sentiamo cosa da dire. Ma il motivo per cui sono qui è proprio per aiutare, ce l'è il boccone! Ha una malattia motosseria, una fibropatosi aggressiva e servono 25 mila euro per consentire delle cure particolari che sono vostro in America possono fare. Per questo io vi invito a regarli presso lo stand e fare la vostra offerta, ripeto io sono qui per fare lo spettacolo tutto ma soprattutto per questo è un ottimo motivo. Quindi vi invito a... Il signor Di Vipre, perché Dio signore si tratta, ci chiarisce il vero motivo per cui è qui, la beneficenza per questa bambina, l'aiuto a questa bambina. Ma attenzione, entrano il Drago e Horus l'assoluto. Non lo hai ancora capito, ma questa è una cosa seria, queste non sono le tue ciamorosanie con cui spammi internet e conti email di tutta questa gente, ma soprattutto mia. Lo sai quanto tempo perdere? Perdo io a vedere le tue scemenze, eh? Interessante, interessante, il Drago sembra farne proprio una questione personale con Di Vipre. Fate silenzio e portate rispetto quando parlo io e su fronte, ma guardate troppo, guardate, Horus l'assoluto. Ma ora vanno le ciance, perché non sai cosa succede? Che adesso ti facciamo pentire amaramente di essere venuto qui in Vipre, hai capito? Di essere insignificante. Drago, Drago, io non lo toccherei questo, non lo toccherei, non lo toccherei, ho una lettera della direzione viva, mi ha appena consegnato il signor Pugin, non lo toccherei. La, se la leggo, te la leggo. Però fai uscire il tuo lottatore da te. Lui? Sì, fai uscire, se no, fai uscire. Va bene. Va bene, sentiamo la lettera della direzione viva. Vedate le circostanze, scrive la direzione viva, ma sperando anche che il Drago, un capo sul basso, da attaccare un uomo, che sta cercando di racimolare dei soldi per curare una domina, la direzione viva ha preso iniziativa e creato un piano di emergenza per difendere gli interessi di Chanel Bocconi e del signor Di Vipre. Cosa? Drago, l'arrivo a resta, tornerà a Reggio Emilia il 26 ottobre 2013. E per venire il tuo tentativo di aggressione per la terra di Vipre, quella sera avremo un main event molto speciale. È stato sancito un mezzo di coppia. Orus l'ha soluto. E va bene. E tu, e tu, ma io no, salve me, affronterai l'uomo a cui hai rubato una vaccetta, Andre Steinmann. Di coppia, sarà un altro che il signore Di Vipre. Standing Ovation, tutti in piedi da applaudire per la direzione viva, ma che bella decisione che ha preso. Mi piace. Non vedo l'ora di mettere questo match. Il pubblico canta di pre di pre, ma io credo che la lettera non sia finita. Drago, per essere sicuri che il prossimo evento non troverai a scappare. La direzione viva ha deciso che se non ti presenterai, perderai la tua licenza da mena. E non potrai più accompagnare Orus a nessuno dei match in viva. che sopra il tutto non puoi toccare il signore Di Vipre. Come lo posso, ma io mi piace! Se toccherai il signore Di Vipre, sarai privato della tua licenza di mena. Certo. Non puoi toccarlo. Cos'è? Però il signore Di Vipre può colpire chiunque vuole. Non lo puoi toccare, Drago, ma lui può toccare te. Ah, questa è una lezione che ci voleva. E così il Drago e Orus l'assoluto se ne devono tornare da dove sono venuti con la coda in mezzo alle gambe. Mi sono piaciuti la direzione viva il signore Andrea Di Vipre e tutto il pubblico mi siete piaciuti proprio tanto. Andrea Di Vipre! Ciber! 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 Scusate che Scusate se ci metto 5 minuti a spezzarli le rosa! Che è a a Grazie a tutti Grazie a tutti